C'è una stessa sensazione? Come quella di sentirti spiato, controllato. Come se ci fosse un'ombra gelida che ti cammina accanto, che ti controlla, che non muoverebbe un dito per aiutarti. Avere chiara la consapevolezza che qualcuno sacrificasse del suo tempo per me, come io l'ho sacrificato per lui. Avere chiara la consapevolezza che il suo tempo per me, come io l'ho sacrificato per me, come io l'ho sacrificato per me. Avere chiara la consapevolezza che il suo tempo per me, come io l'ho sacrificato per me, come io l'ho sacrificato per me. Avere chiara la consapevolezza che il suo tempo per me, come io l'ho sacrificato per me, come io l'ho sacrificato per me. Avere chiara la consapevolezza che il suo tempo per me, come io l'ho sacrificato per me.